Mi piace qui? Ah! Oddio! Mi sento finita? Ah! La Francesca ha detto che anche lassù c'è un pezzo che potrebbe costruire. Ma lì c'è un pezzo che potrebbe costruire. Ah! Ma dico lì, c'è da fare anche l'altra strada. Ah, sì! Ah, vengo in su di qua. Sì, è la Rita che va via? Sì, la Rita va a farla no. Eh, Antoine che ha sottato via la macchina, ho già detto. Fa la lancia piatta. Sì, ma qua. Da parte. Allora, non mi sali qua? Allora, vieni qua. Allora, è la mia cosa? Allora, vieni qua Allora, vieni qua, vieni qua,... Grazie a tutti.